ciao amici eccoci di nuovo qua per una ricettina anche questa volta di pesce è una zuppetta una specie di zuppetta di gure comunque senza altro la frana in altri posti ora la nostra è questa si chiama buridda che aveva il nome ma arabo vuol dire burri burra che vuol dire tagliato a pezzetti che potrebbe essere fatta con seppie calamari totani io ho un misto io oggi ho fatto solo seppie ho trovato delle belle seppie al mercato che il mio pesce ma già pulito la maggior parte ha tolto lui tutto io me ne sono tagliate e da alcuni scarti che comunque si vengono sempre fuori perché toglie le pellicine le alette tutto ho fatto il brodo quindi c'è un brodo anche di seppie bene la nostra buridda è fatta con seppie e le patate poi piselli intanto iniziamo con le patate come sapete io do sempre una cottura alle patate nel forno a microonde come ho già fatto vedere in altre ricette proprio perché soprattutto le seppie non hanno bisogno di una cottura molto lunga sono vengano dure e così rimarranno le patate bastano 4 5 minuti e sono pronte e non devono cuocere ancora di più le mettiamo con un po di brodo sempre di seppie quello che ho fatto prima con pochi scarti o se no se non l'avete con dell'acqua o del brodo di pesce un pochino di sale e andiamo nel forno a microonde per cinque minuti ancora anche un pochino d'olio e metterei le ore copriamo con la pellicola ora usiamo la pellicola e andiamo in forno per 4 a 5 minuti bene intanto per le patate sono nel forno a microonde iniziamo con la cottura delle seppie allora olio mi raccomando abbondante olio perché nel suo e loro condimento poi acciuga salata timo aglio qui sono tre spicchi anche quattro abbondanti noi a genova lo usiamo tanto io in casa anche ne uso poi vedete voi se non vi piace tanto aglio ma ci dà di buono pensate che c'è anche sono anche persone che non usano l'aglio nel pesto agli mortacci e poi mettiamo dopo un po che ha soffritto incominciamo a mettere le seppie ok mettiamo le seppie dentro un bel fuoco vi basse mi raccomando facciamo andare un pochino mischiamo adesso mettiamo il nero di seppia che sono riuscite a togliere dei sacchettini delle seppie però potete mettere quello che si che vendono è solo delle bustine poi un goccino di vino bianco e mettiamo nelle seppie mettiamo un bel fuoco passato se lo accettiamo a metodo filo facciamo andare un 4-5 minuti appena prende così il bollore mettiamo direttamente i piselli io li ho presi con i congelati vabbè ora non è stagione naturalmente dei piselli ma perché poi sono più dolci e rimane più buono di scatola lo facciamo andare ancora un po' io ho assaggiato di sale e va bene perché avevo messo già il brodo che comunque avevo già salato infatti ne mettiamo ancora brodo che tutto sarà circa mezzo litro da quello che ho messo prima così cuoceranno bene i piselli poi assaggiamo un po' di sale e finiamo la cottura poi con le patate ora facciamo andare ancora cinque minuti bene ora cinque minuti che cuociono i piselli su bolle bene mettiamo le patate che vi ricordo che abbiamo comunque già cotto nel forno a microonde quindi sono praticamente quasi cotte aggiungiamo le patate ora che abbiamo messo le patate assaggiamo facciamo un pochino direi che va bene facciamo andare ancora un pochino perché così le patate si assorbe bene si assorbono bene del brodetto che poi a volte in questi casi qui come i funghi sono buone le patate quasi che tutto il resto facciamo andare un pochino e poi finiamo col prezzemolo se vi piace naturalmente sempre un po di piccante peperoncino pepe e io cerco di fare un po' per tutti è pronta la nostra burrida di patate sette e piselli è pronta va servita vi farò poi vedere l'impiattamento con una bella fetta di pane brostolito bene ora impiattiamo la nostra burrida ecco direi che è sufficiente bene ci possiamo mettere un crostone ma anche due è pronta bene cari amici se vi è piaciuta la ricettina metto un like iscrivetevi al mio canale e alla prossima ciao e buon appetito un bacione a tutti ciao alla prossima ciao 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 ciao